Alvia oggi con la prima prova di italiano, gli esami di maturità, studenti al lavoro anche negli istituti superiori di Sciacca. Una nostra truppa al liceo classico, Tommaso Fazzello. Per i presidenti le tracce offerte sono state accessibili e prevedibili. Che credibilità può avere chi ha già amministrato senza aver saputo risolvere le sorti della città? Questo è il commento del Movimento 5 Stelle alle riflessioni di ieri di Fabio Leonte e Paolo Mandracchia in vista delle prossime elezioni. Si dimettono dalla Commissione Attività Produttive Pasquale Bentivegne e Filippo Falautano. Lo fanno in polemica con il vice sindaco Silvio Caracappa, più o meno accusato di avere snobbato il ruolo dell'organismo consigliare permanente. Sul bilancio il governo ha abbandonato il comune e occorre fare pressioni sui punti di riferimento politico, a partire dal ministro Angelino Alfano, così al nostro telegiornale il presidente della Commissione Finanze, Mario Torturici. Girgenti Acque ha un atteggiamento arrogante e vessatorio e lamentarsene stavolta non sono gli utenti, ma gli stessi dipendenti della società privata. Nel mirino problemi vari, tra cui ritardi del pagamento degli stipendi, sciopero in vista. Neanche l'Inps può revocare le assegnazioni di docenti abusivi attraverso la legge 104. Occorre una nuova norma, lo hanno appreso oggi gli insegnanti in movimento, nel corso di una protesta alla sede provinciale della Previdenza Sociale. Ben trovati al nostro telegiornale. Oggi l'atteso giorno per tantissimi studenti, per gli esami di maturità, per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori, oggi è stata la prova di italiano. Questa mattina ci siamo recati al Liceo Classico di Sciacca. Tracce accessibili e prevedibili hanno dichiarato i presidenti di Commissione. Umberto Eco per l'analisi del testo, il suffraggio universale per il tema storico, il significato del confine per il tema di attualità, il rapporto padre-figlio, l'avventura dell'uomo nello spazio, il valore del paesaggio ed il pil per il saggio breve. Queste le tracce della prima prova, quella di italiano, che gli studenti dell'ultimo anno delle superiori hanno dovuto svolgere. Temi ed autori prevedibili. Il nome di Eco, ad esempio, girava su internet già da tempo, e che è scomparso pochi mesi fa. Prima prova serena, rassicurano alcuni presidenti di Commissione del Liceo Classico di Sciacca. Gli alunni sono tranquilli, sono stati messi tutti nelle condizioni di poter lavorare con tranquillità, con serenità. Poi le tracce che sono uscite sono abbordabili, quindi sono alla loro portata, perché i ragazzi hanno studiato per cinque anni, quindi sono nelle condizioni di poter esprimere al massimo tutte le potenzialità di cui sono dotate. Ce n'era una sull'ambiente, già ieri la Ministra aveva parlato di verde, quindi c'è una traccia sull'ecologia, poi c'è una traccia sul femminismo, c'è un'altra traccia sull'importanza della lingua italiana. Ci sono delle tracce sulle quali i ragazzi possono tranquillamente lavorare, sono temi di attualità, per esempio quello anche sul convine, su cosa si intende per convine, e sul fatto che adesso il mondo è come un villaggio globale, quindi i ragazzi penso che possano lavorare bene, esprimere il meglio di loro stessi. I ragazzi auguro di affrontare la prima prova della loro vita abbastanza determinante, perché segna un passaggio importante, e auguro di affrontarlo con serenità, con equilibrio, vedo che i ragazzi sono impegnati, stanno lavorando serenamente, e quindi i risultati si avranno. Le tracce erano abbastanza fattibili, anche perché le tematiche erano varie, tematiche alcune che probabilmente sono state anche trattate nel corso dell'anno scolastico, quindi penso che potevano lavorare liberamente e senza nessuna difficoltà. Domani sarà la volta della seconda prova. Agli studenti del liceo classico toccherà tradurre una versione di greco, a quelli del liceo scientifico risolvere esercizi di matematica. Per i maturandi degli istituti tecnici, la materia scelta è economia aziendale, per l'alberghiero invece scienza e cultura dell'alimentazione. Qualche giorno di pausa e poi lunedì 27 il quizone finale, ultima prova scritta prima degli orali. Cambiamo argomento e ci occupiamo di politica. Facciamo paura ai politicanti di mestiere, ma noi siamo l'unica alternativa a chi, avendo ricoperto ruoli di rilievo nel passato, non è stato in grado di risolvere la città. E questa è la durissima replica di oggi del Movimento 5 Stelle alle dichiarazioni delle scorse ore di Fabio Leonte e Paolo Mandracchia, che in vista delle elezioni del 2017 hanno invitato la gente ad affidarsi a loro e non ai grillini. Ce ne parla Massimo D'Antoni. Basta quei politici vecchio stampo, già messi alla prova, hanno fallito, non sono più credibili. E questo è il tono dell'attesa replica di oggi del Movimento 5 Stelle di Sciacca alle dichiarazioni delle scorse ore di Fabio Leonte e Paolo Mandracchia, i quali, nell'annunciare il loro impegno diretto alle elezioni amministrative del 2017, hanno invitato i cittadini a non affidarsi ai grillini, ritenendoli sostanzialmente impreparati ad assumere le redini del governo della città, proclamando al contrario, dal canto loro, una conoscenza più approfondita della macchina amministrativa e comunale in grado, cioè, di affrontare problemi con maggiore competenza. Un'impostazione che, naturalmente, non è piaciuta ai grillini saccensi. I politici vecchio stampo, si legge in una nota dell'Assemblea del Movimento 5 Stelle, si impegnano da sempre nella ricerca di tutti i modi possibili per autoriciclarsi, tentando di ottenere spazi, visibilità o vantaggi in termini di poltrone e discranni. Ai politicanti di mestiere, prosegue la nota del Movimento 5 Stelle, dobbiamo fare davvero una grandissima paura, sia per i principi secondo cui operiamo, sia perché siamo l'unica forza politica in grado di scardinare un sistema rivelatosi incapace di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Ecco perché il voto di protesta, dicono i grillini, è così spudoratamente ricercato. I grillini affermano poi di capire le ragioni delle recenti affermazioni dell'ex consigliere ed assessore Leonte, la cui analisi, però, a giudizio del Movimento 5 Stelle di Sciacca, parte da un presupposto sbagliato. E così, gli esponenti esecensi del Movimento di Beppe Grillo sottolineano come i 5 Stelle si presentino oggi agli elettori come l'unica alternativa politica al vecchio sistema dei partiti, inceppatosi da decenni e lontano nei luce della gente, essendo diventato, si parla sempre del vecchio sistema dei partiti, sempre più autoreferenziale. Il Movimento 5 Stelle afferma così di godere di una credibilità conquistata coi fatti. Gli elettori non lo scelgono per protesta, ma perché lo ritengono migliore e attendibile. Quale credibilità può avere, si domandano i grillini di Sciacca polemicamente, chi, come paladino della protesta o come amministratore sedicente e competente, avendo ricoperto ruoli di rilievo in consigliature e in amministrazioni passate, non è stato in grado di risollevare le sorti della città. E ancora, quale credibilità può avere, concludono come novello politico chi oggi valuta la possibilità di una grande ammucchiata col Partito Democratico. Insomma, a giudizio dell'Assemblea del Movimento 5 Stelle, Fabio Leonte e Paolo Mandracchi esercitano solo il tentativo di rimanere a galla ed eliminare dai giochi i grillini anziché proporsi come valida alternativa all'attuale schieramento politico che governa la città. Una polemica che era nell'area e che registra il tentativo dei grillini di sottrarsi definitivamente dall'idea di essere destinatari esclusivamente di un voto di protesta, ribadendo le loro ragioni e proponendosi così come forza di governo. Lasciano la Commissione Attività Produttive ai consiglieri di maggioranza Filippo Falautano e Pasquale Bentivegna quest'ultimo dell'organismo permanente era anche presidente. Decisione in polemica con il vicesindaco Silvio Caracappa accusato di aver sempre più snobbato il ruolo della Commissione. Ce ne parliamo nel servizio. Lascia la presidenza della Commissione Consigliare Attività Produttive ma anche lo scranno di semplice componente del predetto organismo il consigliere comunale Pasquale Bentivegna decisione clamorosa motivata da ragioni politiche messe peraltro a verbale nel corso dell'ultima seduta dell'organismo consigliare permanente. Lo stesso verbale in cui Bentivegna annuncia la decisione di dimettersi chiedendo di farlo anche agli altri componenti. Decisione al momento condivisa da un altro componente della stessa maggioranza ossia Filippo Falautano e sulla quale si sono riservati di prendere una decisione componenti di minoranza Santo Ruffo e Vincenzo Marinello i quali hanno ritenuto prima doveroso consultarsi con i gruppi consigliari di appartenenza nella fattispecie rispettivamente Sciacca Democratica e Partito Democratico. Questa commissione non ha più ragione di esistere così che Pasquale Bentivegna ha fatto mettere a verbale nella convocazione di due giorni fa aggiungendo che troppe volte suggerimenti formulati non sono stati ascoltati che troppe volte le sedute sono state disertate dagli amministratori che troppi sono stati moniti lanciati all'esterno e non ascoltati. Pare da indiscrezioni che il bersaglio della polemica di Pasquale Bentivegna sia il vice sindaco sia il forzista Silvio Caracappa accusato in buona sostanza di avere sempre più snobbato nel corso del tempo le convocazioni della commissione attività produttive quella a cui fa riferimento una delle sue deleghe assessoriali. Di più lo stesso Caracappa nei giorni scorsi avrebbe convocato una riunione per esaminare la problematica del mercato ortofruttico lo dimenticando però di avvisare la commissione attività produttive. Che Bentivegna covasse un certo risentimento nei confronti di questa situazione lo si percepiva da qualche tempo atteggiamento di Silvio Caracappa non gradito dimissioni quelle di Bentivegna e Fallautano che scaturiscono dall'interrogativo su quale sia il ruolo della commissione consigliare. Fa di più Pasquale Bentivegna annuncia di riservarsi e di riflettere sulle stesse possibili dimissioni anche da consigliere comunale. Osservazioni condivise da Filippo Fallautano come detto entrambi appartenenti al raggruppamento progetto Sciacca anche se Fallautano qualche tempo fa aveva manifestato una certa insofferenza di ordine generale poi pare rientrata. Bentivegna e Fallautano con queste dimissioni aprono un dibattito all'interno della maggioranza anzi lo riaprono. Se il destinatario delle polemiche Silvio Caracappa è di tutta evidenza come ci sia una sorta di ritorno allo scontro tra NCD e Forza Italia quello scontro è venuto fuori plasticamente dopo le dimissioni di Daniela Campione e l'innesto in giunta di Maria Antonietta Testone scontro ribadito dalla nota di Forza Italia in cui si confermava sostegno alla coalizione di Paola solo nel caso in cui il candidato a sindaco nel 2017 fosse di nuovo l'attuale primo cittadino dimissioni dalla commissione quelle di Pasquale Bentivegna e Filippo Falautano destinate sicuramente ad alimentare il dibattito cittadino in un'estate che a questo punto si annuncia a dir poco rovente. Ritorniamo in studio e ci occupiamo di commissariamenti di comuni a causa di bilanci non approvati sull'argomento il bilancio lo Stato ha abbandonato ai comuni così oggi l'ex sindaco Mario Turturici il quale auspica un'interlocuzione politica con chi oggi governa il Paese invitandolo a rivedere le politiche finanziarie nei confronti degli enti locali ascoltiamo Turturici intervistato da Massimo D'Antoni Io ho l'impressione che lo Stato abbia abbandonato i comuni al loro destino e ne è prova il trend dei trasferimenti che ci sono stati dallo Stato alla Regione e la Regione ai comuni negli ultimi 7-8 anni cioè noi siamo passati da una percentuale di trasferimenti sulle entrate che era pari a circa 70% ad una percentuale che è intorno al 30% forse anche meno quindi non è nemmeno sufficiente pagare gli stipendi il che vuol dire che tutte le entrate del Comune devono essere finanziate con la tassazione locale ed è chiaro che laddove c'è un tessuto produttivo forte allora le città riescono a finanziare servizi laddove come purtroppo avviene in Sicilia ci sono in realtà molto povere e dove il tessuto economico non è florido è chiaro che c'è una difficoltà a pagare questo livello di tassazione quindi il rischio è che per motivazioni di ordine politico lo Stato scarichi sui Comuni tutte le proprie difficoltà e con la conseguenza che sotto gli occhi di tutti noi siamo già quasi ai primi di luglio il termine per il bilancio era il 30 di aprile siamo in gestione provvisoria e quindi di fatto i Comuni sono bloccati nella spesa possono soltanto pagare gli stipendi quindi è chiaro che c'è un problema politico che va a mio giudizio attenzionato a livello nazionale perché bisogna fare una pressione una sollecitazione sui parlamentari su chi comunque ci rappresenta a Roma perché non è pensabile che le città siciliane possono avere una tassazione locale così elevata perché strangola le famiglie e soprattutto impoverisce ancora di più le imprese che sono peraltro tartassate da un momento che tutti ben conosciamo una crisi economica che senza precedenti quindi è una situazione che a mio giudizio non può essere risolta soltanto con qualche manovra di bilancio con soluzioni tecniche ci vuole proprio una scelta politica di fondo che ponga a livello nazionale il problema dei comuni e soprattutto dei comuni siciliani non si era mai verificato che noi a fine giugno non avessimo uno schema di bilancio quanto meno approvato dalla giunta prima si insediava il commissario ma il bilancio era già approvato dalla giunta per cui era una mera sollecitazione che veniva fatta al consiglio comunale per approvarlo in tempi più rapidi oggi non abbiamo nemmeno lo schema di bilancio cioè oggi non sappiamo come si deve andare a chiudere questo strumento finanziario se dovesse farlo il commissario che cosa rischieremmo? è una scelta che viene fatta ad ufficio quindi intanto ci sarebbe la sostituzione dell'organo politico e dell'organo tecnico il che vorrebbe dire ovviamente che l'organo politico ha fallito perché se l'organo politico non fa il bilancio e lo fa il tecnico è chiaro che c'è una incapacità ad adottare lo strumento principale di programmazione di un comune il commissario arriva ovviamente si sostituisce e fa il bilancio che ritiene utile fare ovviamente sarà un bilancio basato prevalentemente su scelte tecniche poi lo rimette al consiglio comunale che dovrà o adottarlo o abbocciarlo se lo boccia si scioglie il consiglio comunale quindi sarebbe veramente una cosa molto grave allora io che dico siccome alla fine abbiamo anche un ministro dell'interno che è agrigentino allora io penso che i comuni agrigentini sono tra i più poveri d'Italia io credo che sul piano politico questo problema debba essere evidenziato anche perché c'è la Corte dei Conti che poi scrive è l'intervista integrale al consigliere Mario Turturici andrà in onda in coda ai nostri Tg di domani Girgenti Acque ha un atteggiamento arrogante e vessatorio a lamentarsi questa volta non sono gli utenti ma gli stessi dipendenti della società che gestisce il servizio idrico integrato in diversi comuni della provincia e i sindacati parlano di sciopero sentiamo a parlare di atteggiamento arrogante e vessatorio da parte di Girgenti Acque sono oggi i lavoratori che attraverso i sindacati tornano a prospettare uno sciopero del personale Nero su Bianco hanno formalizzato le ragioni delle loro contestazioni che riguarderebbero il mancato riconoscimento di quanto è previsto nel contratto di lavoro in relazione a turni ferie straordinari ma anche al pagamento e ritardo degli stipendi le segreterie provinciali di Cigelle Cisle Will sostengono di avere tentato un approccio con i vertici della società che gestisce il servizio idrico integrato in diversi comuni dell'Agrigentino ma che l'atteggiamento di Girgenti Acque finora è stato quello della chiusura totale vanno oltre accusano apertamente ai vertici di atteggiamento permanente di arroganza vessazioni e minacce nei confronti dei lavoratori in particolare viene chiamata in causa la disposizione di servizio del settembre dello scorso anno che non definisce se l'orario di lavoro è su 5 o su 6 giorni non riconosce il turno e quindi l'indenità per l'avvicendamento degli operatori o i compensi straordinari per quanti lavorano il sabato e la domenica e a tutto ciò aggiungo nel continuo ritardo del pagamento degli stipendi che dal 5 del mese successivo a quello di maturazione nell'arco di un anno si ora ha spostato a quasi un mese di ritardo generando di conseguenza problemi per gli impegni finanziari assunti dai lavoratori insomma mancavano soltanto loro i dipendenti di Giorgenti Acqua a contestare l'operato e l'atteggiamento della società che gestisce il servizio idrico sono in buona compagnia del resto e vanno ad unirsi alla vasta utenza grigentina che da anni denuncia le bollette pazze i distacchi idrici e persino fognari l'atteggiamento di eccessiva puntualità diciamo così con il quale si pretende il pagamento e subito si scopre secondo quanto sostengono i sindacati che la stessa puntualità non viene applicata nel pagamento degli stipendi al personale o nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro dipendenti che poi spesso sono in prima linea nell'attuare le disposizioni dei vertici ad esempio nel mettere i sigilli ai contatori andando incontro alle proteste all'esasperazione dei cittadini tutto ci saremmo aspettati commenta oggi Franco Zammuto portavoce del Comitato Intercomunale per l'Acqua Pubblica tranne che siano anche lavoratori di Giorgenti Acqua ad accusare l'azienda di atteggiamento arrogante e vessatorio intanto in programma in questi giorni l'insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Ati l'organismo che ha sostituito lato idrico e che è presieduto dal sindaco di Menfi Vincenzo Lotà il Comitato Intercopa ha già chiesto un incontro per riprendere la battaglia finalizzata alla risoluzione anticipata del contratto con Giorgenti Acqua A proposito di Acqua perdite idriche che con ammessi di saggio alla circolazione stradale via Brigadiere Anastasi ci occupiamo di questo nella pagina delle nostre segnalazioni pagina delle segnalazioni dedicata oggi interamente a via Brigadiere Anastasi strada che la nostra redazione e residenti definiscono un campo di battaglia e le immagini non fanno altro che acclarare questa definizione del resto nel tempo la rubrica delle vostre segnalazioni ha avuto al centro proprio i problemi di via Anastasi disagi legati alle perdite idriche spesso anche più di una contestualmente e l'intervento del gestore idrico più volte sollecitato da queste parti finalmente c'è stato una decina di giorni fa realizzati gli scavi fatto un primo sopralluogo transennato opportunamente l'aria poi da via Anastasi non si è visto più operaio di gigenti acque risultato una strada in ben due punti scavata transennata divieti di sosta e problemi al passaggio degli automobilisti reso quasi impossibile tra divieti transenne e perdite idriche già perché continuano ad esserci guasti alla condotta mentre addirittura per alcuni giorni i residenti sono rimasti a secco probabilmente affermano quanti segnalano il problema alla nostra relazione il primo intervento del gestore idrico sarà servito per individuare il punto in cui la condotta idrica è guasta non è chiaro se questo punto è stato individuato continuano i residenti e quando dai girgenti acque continuano di completare i lavori dal momento che proprio nel punto in cui vi sono stati gli scavi e anche più avanti continuano a fuoriuscire acqua non solo perdite idriche negli anni probabilmente sempre a causa di guasti alla condotta idrica non si contano più le buche i cedimenti gli avvallamenti dell'asfalto che hanno lasciato una strada degna della definizione campo di battaglia che i residenti le hanno assegnato è meritevole di un urgente intervento di sistemazione dell'intera condotta idrica prima e del rifacimento del manto stradale poi sit-in di protesta davanti la sede dell'Inps di Agrigento questa mattina da parte dell'Associazione Insegnanti in Movimenti sugli abusi della legge 104 sentiamo Dorenzo Navarra un altro sit-in di protesta questa volta davanti la sede dell'Inps di Agrigento ma non si sblocca l'avvertenza degli insegnanti che da anni attendono di poter tornare a lavorare nella propria terra e che sarebbero stati penalizzati da colleghi che hanno suffruito della legge 104 pur non avendone diritto la scorsa settimana avevano incontrato il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale questa mattina dopo la protesta hanno incontrato il direttore dell'Inps ci ha accolto così come aveva fatto Zarbo per chiarire un po' questa situazione e praticamente così come Zarbo ci aveva mandato da Piro perché la retroattività della 104 cioè che queste persone non avevano il beneficio neanche 4 anni fa per essere rimandati al nord e anche Piro praticamente ci ha detto che non è nelle loro facoltà praticamente sembrerebbe uno scarico a barile ognuno praticamente non ha queste responsabilità e tutta una volontà a questo punto diventa politica perché la pubblica istituzione e il ministro della pubblica istituzione deve fare una legge dicendo che chi ha perso il beneficio e non aveva il beneficio neanche quando ha ottenuto il sostenimento dal nord deve essere licenziato quando meno rispedito nella sede di provenienza praticamente ci vuole un intervento o della procura che deve andare a fondo e vedere su questi 551 all'incirca soggetti a cui hanno tolto il beneficio o la procura deve andare a fondo o deve essere il ministro della pubblica istituzione a dire praticamente all'Inse di accertare questa perdita del beneficio per vedere di effettuare un'azione esemplare della reprotività e quindi licenziamento o uno spostamento nelle province di origine insomma nonostante le denunce nonostante l'inchiesta della procura di aggrigente nonostante siano stati accertati abusi della legge 104 la situazione non si sblocca per gli insegnanti che ritengono di essere stati penalizzati in questi anni la burocrazia in Italia impedisce di fare qualsiasi cosa noi ovviamente non siamo assolutamente contenti perché è vero che hanno i medici forse hanno finito hanno smesso di rilasciare 104 dietro compensi è vero che sono state revocate le 104 per assistenza quindi dei tre giorni al mese ma è pur vero che queste persone sono rimaste impunite perché fondamentalmente se non ritornano nelle province di origine quindi soprattutto al nord non libererebbero i posti che hanno rubato a noi quindi la battaglia continua a questo punto ne abbiamo fatto esposti alla procura e insisteremo con la procura e agiremo anche a livello politico perché Farone aveva dichiarato che era una guerra senza se senza ma che avrebbe in provincia di Grigento aveva detto che era una calamità innaturale il fenomeno 104 e che si sarebbe prodigato per far sì che questo fenomeno venisse debellato ora vedremo tramite contatti politici se c'è veramente questa volontà di risolvere questo problema e ridare giustizia a chi è stato derubato di un diritto sacrosanto che è quello del trasferimento rischio incendi a Ribera il sindaco Carmelo Pace ha emanato un'ordinanza che impone ai proprietari di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale di provvedere immediatamente alla pulizia non solo l'ordinanza vieta anche di accendere fuochi bruciare sterpaio e gettare mozziconi di sigarette che possono causare pericolo di incendio proprio nei giorni scorsi in via Musso un vasto incendio ha generato forte allarme tra i residenti e siamo soltanto all'inizio della stagione estiva e a proposito di incendi per il senatore Giuseppe Ruvolo è necessaria una ristrutturazione profonda del corpo della forestale che deve passare sotto il controllo nazionale Ruvolo denuncia la totale disorganizzazione del sistema e ritiene che per far fronte all'emergenza incendi che si è registrata la scorsa settimana in Sicilia l'attuale struttura del corpo forestale regionale con mezzi che funzionano che risalgono a 20-25 anni fa non sia assolutamente sufficiente continuano le attività di controllo sull'ambiente da parte del libero consorzio comunale di Agrigento che riguardano in particolare la verifica degli impianti di depurazione delle acque e reflue di tutti i 43 comuni dell'ambito già nei giorni scorsi il corpo di polizia provinciale ha sottoposto a sequestro il giudiziare un'area all'interno di un'impresa di Siculiana nella quale era stato depositato un cumulo di circa 35 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi Solidarietà e Rotary Club di Sciacca ha consegnato una carrozzina mare job all'Unitalsi l'Unione Italiana trasporta malati all'urde e santuari internazionali una sedia galleggiante che permetterà ai disabili di Sciacca non solo di essere accompagnati in spiaggia e in acqua ieri pomeriggio al circolo Garibaldi la cerimonia di consegna vediamo una sedia con ruote in gomma galleggianti per accompagnare chi è costretto sulla carrozzina a passeggiare in spiaggia o a emeggersi in mare è stata donata dal Rotary Club di Sciacca preseduto da Filippo Marciante alla sottosezione di Agrigento dell'Unitalsi Unione Italiana trasporta malati all'urde nei santuari internazionali ieri pomeriggio al circolo Garibaldi la cerimonia di consegna era una delle iniziative che ci eravamo ripromessi sin dall'inizio di quest'anno Rotariano ci siamo riusciti siamo felicissimi l'iniziativa è gestita pensata da tutti i soci di questo club lo voglio dire insieme all'Unitalsi l'idea parte da alcuni soci che sono anche componenti dell'Unitalsi ed è un'iniziativa quasi una scommessa che abbiamo fatto sin dall'inizio di riuscire a trovare questa sedia che ci avevano richiesto le associazioni e con questa sedia noi speriamo di dare un piccolo segno un piccolo momento di sollievo a chi è meno fortunato di noi la sedia sarà in spiaggia nelle spiagge libere nelle spiagge anche gestite dagli stabilimenti l'Unitalsi ci condurrà attraverso questo uso diciamo più diffuso possibile a beneficio di tutti questa è la cosa più bella la cosa che ci riempie di tanta gioia l'Unitalsi associazione ecclesiale nata con lo specifico compito di organizzare pellegrinaggi per gli ammalati all'URD nei suoi oltre 100 anni di attività ha visto il suo operare adeguarsi alla sempre più complessa realtà del mondo della sofferenza sullo sfondo dei vari cambiamenti sociali oggi l'associazione pur mantenendo nel pellegrinaggio il momento più importante dell'appropriazione tende ad essere presente accanto agli ammalati in modo continuo per tutto l'anno e così a livello parrocchiale e provinciale l'Unitalsi promuove diverse attività come incontri di formazione di preghiera e di svago vacanze al mare e in montagna gita e ritiri spirituali nasce da qui l'esigenza di avere una sedia a job per venire incontro a chi ha problemi di deambulazione noi questa sedia per esempio la utilizzeremo come dicevo prima al soggiorno estivo che noi facciamo annualmente dove portiamo i disabili per una settimana stanno con noi le famiglie ce li vengono a lasciare noi li portiamo a mare anche in piscina e questa sedia servirà per accompagnare i disabili in acqua chiaramente poi questa sedia resterà a Sciacca perché è giusto che rimanga a Sciacca visto che comunque è stata donata dal Rotary Distretto di Sciacca e i nostri volontari vedremo un po' se potranno organizzare presso un lido probabilmente è necessario che sia un lido attrezzato con una pedana che arrivi a mare e quindi magari ci saranno degli orari si organizzeranno perché sono parecchi per fortuna i volontari di Sciacca quindi negli orari dove poter assistere chi ha bisogno mettendo a disposizione la sedia tra la fine di giugno e i primi di luglio sono previste nel distretto sanitario di Sciacca attività di screening audiologico e diagnosi precoce del melanoma venerdì 24 giugno dalle ore 9 alle ore 13 nella piazza davanti allo stadio comunale a Sciacca si eseguirà per chi vorrà il controllo audiologico lo stesso monitoraggio sarà eseguito a Menfi in Viale della Vittoria giovedì 30 giugno dalle 16 alle 20 per quanto riguarda la prevenzione melanoma in programma mercoledì 29 giugno a Menfi sempre in Viale della Vittoria dalle 16 alle 19 a Sciacca questa volta in piazza Scandaliato il prossimo 2 luglio dalle 9 alle 12 una campagna di prevenzione e diagnosi di determinate patologie messa in atto dall'ASP di Agrigento tutto pronto per la settima edizione del letterando in fest come sempre oltre alla letteratura ci sarà spazio anche per il cinema con le anteprime del film Lo scambio Ichigo che è l'ultima parola domani si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione alle ore 10 presso il Vinoso allo Stazzone sentiamo tutto pronto per il letterando in fest che si terrà a Sciacca nel weekend il 24, 25 e 26 giugno domani durante la conferenza stampa di presentazione alle 10 presso il Wine Bar Vinoso saranno svelati tutti i dettagli dell'evento oggi intanto arrivano ulteriori anticipazioni in anteprima nazionale sarà trasmesso il film di Salvo Cuccia Lo scambio vincitore dell'ultima edizione del Torino Film Festival il regista e gli attori del cast tra cui figurano Filippo Luna e Barbara Tabita saranno presenti nella giornata di esordio del letterando venerdì 24 giugno nell'ambito di una delle sezioni storiche della manifestazione Cine Letterando appuntamento ormai immancabile che mette in relazione cinema e letteratura sottolineando le tante connessioni possibili tra questi due differenti linguaggi il film Lo scambio che sarà in programmazione presso il complesso della Badia Grande fino al prossimo 28 giugno è tratto da un libro di Alfonso Sabella magistrato e scrittore che figura tra gli stessi sceneggiatori insieme al regista Salvo Cuccia che con questo ultimo lavoro racconta con i ritmi del thriller psicologico dell'arresto dell'efferato boss di Cosa Nostra Leo Luca Bagarella avvenuto nel 1995 sempre per la sezione Cine Letterando sabato 25 giugno in programma la pellicola Hitchcock Truffaut di Ken Jones con Martin Scorsese e Wes Anderson mentre domenica 26 giugno sarà la volta di L'ultima parola la vera storia di Dalton Trumbull di Jay Roach con Diane Lane ed Ellen Mirren pellicola quest'ultima ispirata alla vita dello sceneggiatore hollywoodiano che nel 1947 finì di fronte al Comitato per le attività anti-americane protagonisti dell'evento ovviamente i libri con tante presentazioni prima tra tutte quelle di Roberto Laimo e Davide Faraone Per il secondo anno consecutivo la Fidel regionale ha assegnato alla Marathon Club di Sciacca l'organizzazione di una gara regionale di Grand Prix di Corsa che si disputerà domenica 26 giugno a partire dalle 9.30 la partenza è prevista da Piazza Angelo Scandaliato poi si percorrerà il centro storico della città su un percorso di due chilometri che prevede quattro giri moltissimi saranno gli atleti partecipanti da tutte le parti della Sicilia trattandosi di una gara ufficiale indetta dalla Fidel regionale e inserita in calendario si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale ancora una volta grazie per averci seguito Grazie a tutti